Mi piace sempre incominciare le mie presentazioni parlando di scelta. Abbiamo anche una psicologa questa sera qui e quindi tutti noi ogni giorno, ogni ora, ogni minuto compiamo delle scelte nella nostra vita privata, nell'ambito lavorativo. Anche voi oggi avete compiuto una scelta, la scelta di venire qui questa sera e di non andare a fare qualsiasi altra cosa. E molto probabilmente perché c'è qualcosa che ancora non vi convince. Ovviamente l'argomento sono le web performance e quindi c'è qualcosa che non vi convince sul vostro sito web. E come questa scelta, in generale le vostre scelte vi influenzano, dipenderà esclusivamente da voi. Quindi da quello che imparerete questa sera, da quello che vi frullerà nella testa quando uscirete da qui. E sicuramente questa scelta potrà o non potrà influenzare le performance del vostro sito web. Allora, come diceva Kelvin, se non puoi misurarlo, non puoi migliorarlo. Quindi ogni qualvolta in generale si parla di migliorare qualcosa, questo qualcosa prima andrebbe misurato. E secondo me è l'unico modo per poter realmente innescare un meccanismo di miglioramento. Faccio sempre l'esempio di quando torniamo dalle vacanze e ci vogliamo mettere a dieta. Io mi chiamo Mangione, quindi spesso mi capita di tornare nella vacanza e volermi mettere a dieta. Che cosa facciamo? La prima cosa che facciamo è misuriamo, saliamo sulla bilancia e diciamo no, io voglio cambiare questo numero in un altro. E quindi ci diamo un obiettivo in base a una misura. Lo strumento della misurazione è una semplice bilancia. Ovviamente nell'ambito web non avremo una bilancia, ma dobbiamo avere altri strumenti che ci permettono di avere una misura oggettiva del problema che vogliamo affrontare. Il demone che vogliamo sconfiggere avrà un nome, sarà una misura, un tempo di risposta che vogliamo migliorare. Oggi i big della rete ci hanno abituato a standard elevatissimi. Chi di voi non conosce la regola dei tre secondi? La conoscete tutti? Ecco, dimenticatevela. Dimenticatevela perché è vecchia, è obsoleta. Oggi parliamo di secondo. Un sito web deve rispondere entro un secondo. La pagina del nostro sito web si deve aprire entro un secondo. Appena il visitatore ci abbandona. Ci abbandona perché in un mondo frenetico la velocità è tutto. E quindi se il nostro sito web si apre troppo lentamente rischiamo di perdere quella visita. Se è un sito amatoriale, se è un sito vetrina, diciamo che la perdita potrebbe essere non influente, anche se magari il sito web della psicologa, Angela, se l'utente perso potrebbe essere un potenziale paziente. E quindi forse la perdita potrebbe anche essere importante. Se ovviamente abbiamo un e-commerce, quella visita, quell'abbandono, poteva essere una potenziale vendita. Quindi l'importanza del famoso tasso di rimbalzo. Sempre uno studio di Amazon ha rilevato che un e-commerce può perdere circa, mi sembra forse l'1% di fatturato, 1% di fatturato ogni 100 millisecondi di latenza aggiuntiva. Che cosa sono 100 millisecondi? Anch'io non lo sapevo, sono andato a informarmi. 100 millisecondi sono il tempo in cui ci mette il cambio di una Ferrari a cambiare marcia. Quindi proprio un istante. 134 millisecondi è il tempo che ci mette la luce a fare il giro dell'equatore. Quindi stiamo combattendo contro la fisica. Solo che siamo umani. E quindi quali superpoteri ci vengono in aiuto per combattere questi numeri che sono quasi impercettibili? Ci aiutano alcuni tool. Come dicevo prima, la prima cosa che dobbiamo fare per pensare di poter migliorare le performance del nostro sito web è iniziare a misurare quello che accade. Sulla rete ci sono diversi, tantissimi tool gratuiti che permettono di fare una misurazione puntuale del tempo di accesso al nostro sito web. I due più famosi che conoscevo io sono Pingdom e GTmetrix. Ce ne sono tantissimi altri, ovviamente. Però, come dicevo all'inizio, noi ci piace, siamo una fabbrica. Ci piace fare le cose, ci piace proprio fabbricarle. E quindi avevo già da un po' di tempo il pallino di fare il Pingdom e il GTmetrix italiano. Visto che in Italia siamo... nessuno ha mai fatto una cosa del genere. Ci siamo sempre affidati ad altre aziende nel mondo che hanno fatto queste cose. Ci sono detto, ma perché non iniziamo a fare una cosa tutta italiana? Tutta italiana in realtà proprio no. Non è proprio corretto perché utilizziamo vari strumenti open source che non sono fatti da noi, non sono fatti in Italia. Però diciamo che il cuore del progetto, il cuore dell'idea, è italiano. E quindi abbiamo realizzato Speed. Nella slide dopo c'è anche il link. Speed, che cos'è? È uno speed test. Come i due gratuiti che vi ho nominato prima. Che in modo molto semplice permette di eseguire una scansione del vostro sito web. e quindi individuare alcuni KPI importanti da tenere sotto controllo. L'indirizzo è quello che vedete su in cima. Ho utilizzato un font bruttissimo, però... tools.host.it Come vedete qui, ad esempio, ho eseguito una scansione di prova di Speed stesso. Che è stato, tra l'altro, ottimizzato dal qui presente Alessandro. E quindi, ottenendo un punteggio comunque buono, la maggior parte dei siti che rileviamo in queste scansioni hanno punteggi 50, 60, quindi sono abbastanza bassi. Il tempo di caricamento, ovviamente, è proprio sotto la best practice, quindi 0,9, quindi 10 centesimi sotto il secondo. Quindi, che cosa abbiamo rilevato con questa scansione? Un punteggio totale. Il punteggio non è nient'altro che un indicatore. Se io utilizzo sempre uno stesso strumento, a quel punto mi affido a quello strumento come termine di paragone. Tempo di caricamento è il page load della pagina, quindi questa misurazione viene fatta simulando una visita vera. Quindi il sistema apre un browser, in questo caso Chrome, carica il sito, e quindi quello è proprio il tempo che un utente, un utente umano, impiegherebbe a vedere la pagina caricata. Poi abbiamo il peso dei contenuti, quindi il totale dei contenuti che vengono trasferiti dal server al client, e il numero di richieste della pagina, quindi quante risorse vengono chiamate, che siano interne o esterne. Questi sono i tre valori più importanti da tenere sotto controllo. Poi il tool va avanti, e quindi ci dà anche una segmentazione dei contenuti che sono caricati dal sito, suddivisi per tipologia. Quindi quanti kilobyte o megabyte, in questo caso ho di javascript, di font, di svg, di image, html, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci dà uno spaccato delle risorse. Ma il tool va ancora avanti, e quindi invece di dare dei consigli generici, quindi le best practice, andrà a dare consigli specifici relativi al nostro sito web. Quindi l'analisi impiega qualche minuto per essere fatta, proprio perché il risultato non sono solo il tempo di accesso, le richieste e il peso dei contenuti, ma anche i consigli dedicati proprio al mio sito web. Quindi esattamente le cose che devo andare a risolvere per migliorare fondamentalmente tre aspetti. Quindi le performance, ovviamente, l'accessibilità, e le best practice più generiche. Quindi questo componente si chiama coach, proprio perché è un allenatore e mi aiuta ad andare a individuare le azioni da compiere per andare a migliorare le performance del mio sito web. Chi può utilizzare questo tool? Ovviamente, quando si va poi nel dettaglio, un po' di competenze tecniche sono necessarie, perché se devo andare a toccare, vabbè, dimensionamento delle immagini, lo possiamo fare, sappiamo tutti come devono essere dimensionate, però nonostante questo, anche qui ci sono delle cose da risolvere, anche sul nostro sito, che non abbiamo ancora risolto, volutamente a effetto demo. Altre cose un po' più specifiche, tipo la cache del leader, quindi ci sono cose che potrebbero essere un po' più tecniche, che necessitano di un approfondimento tecnico, con risorse online, oppure con uno sviluppatore. Quindi, nella maggior parte dei casi, se siamo una web agency, e comunque alle scrivani a fianco abbiamo degli sviluppatori, sappiamo che cosa dirgli di fare per migliorare la situazione di un cliente che magari non è soddisfatto dell'apertura del suo sito web. E' poi possibile generare un report linkabile, e quindi questo report lo possiamo mandare via mail, lo possiamo condividere con i clienti, possiamo tenercelo a memoria storica. In questo momento, se non vado errato, il report dura 30 giorni, dopodiché viene cancellato, e bisogna fare altre scansioni. Ovviamente è gratuito, e i nostri clienti nei prossimi mesi avranno un plus, quindi chi ha l'hosting fondamentalmente da host avrà le scansioni schedulate in automatico, e quindi si avrà automaticamente uno storico dei tempi di risposta, e quindi dei KPI più importanti. Quindi potremmo tenere sotto controllo le performance del sito con una storicità praticamente infinita, e quindi poter andare anche a individuare dei momenti in cui ci sono stati dei cambiamenti. Magari proprio quando abbiamo cambiato template, quando abbiamo cambiato l'immagine in home page, e quindi potremmo andare a ritroso e capire dove è nato, quando è nato il problema. Non siamo tantissimi, quindi se volete fare domande non aspettate la fine, ci mancherebbe altro. Questa arriva alla parte un po' più tecnica. Allora, molto spesso si pensa che per migliorare le performance in un sito web bisogna puntare il dito sull'hosting, e quindi bisogna cambiare hosting. Ogni tanto è vero, ogni tanto no. Perché? Se ci affidiamo a un servizio di hosting che costa poco, non significa che sia scadente, però è molto facile che l'infrastruttura che viene utilizzata per erogare i servizi al nostro sito non sia delle più efficienti, delle più performanti. Ma soprattutto è facile che le risorse che ci vengono garantite non siano proprio dedicate a noi e che ci sia un po' troppo overbooking. Questo è normale, ma vale in qualsiasi settore, in qualsiasi mercato. È un po' come dire che differenza c'è tra una macchina che costa 10.000 euro e una che ne costa 100.000. Nessuna, sono due macchine, hanno tutte e due quattro ruote e tutte e due mi porteranno alla meta. Una magari un po' più velocemente dell'altra. Ecco, quindi la differenza tra un hosting poco performante e un hosting più performante potrebbe essere questa. Quindi comunque la scelta, e quindi torniamo al concetto di scelta, del servizio di hosting è da un punto di vista strategico per la mia strategia di web performance. Assolutamente. Su Google poi troviamo decine di articoli, decine, migliaia di articoli che parlano di delle 5, delle 10 regole d'oro, guide definitive per migliorare le performance. Quindi in questa giungla bisogna anche sapersi destreggiare. E sicuramente partecipare a questo meetup sicuramente è un modo per avere una bussola e capire dove andare. Perché ci sono persone molto esperte che hanno già sbattuto la testa e quindi sanno dove non farvela sbattere. Ecco, quindi ho riassunto lo scopo del meetup, no? Non sbattere la testa. Ho fatto un, con l'aiuto anche di Alessandro, che collabora ultimamente con noi. Ho riassunto 6, 6 regole d'oro che per esperienza in diretta, perché premetto io non sono un tecnico, non sono uno sviluppatore, non scrivo codice. L'unico codice che ho scritto è stato quando avevo 8 anni ed era in basic e quindi non necessitava di ottimizzazioni web. Poi ho smesso di scrivere. E volevo, la console dei videogiochi, mi hanno comprato un 386 dell'Olivetti e che ci dovevo fare? C'è scritto codice. Va bene. Allora, la regola numero uno. Regole che io stesso ho imparato recentemente, da poco. E secondo me spiegare a non sviluppatori, non so, ci sono degli sviluppatori tra di voi? Sviluppatrice, sviluppatrice, non sviluppatrice. Diciamo che fare miei questi concetti, anche un po' alcuni complicati, e spiegarli in modo semplice forse è il modo più corretto di trasmetterli e farli capire. Lo vediamo alla fine se sono stato bravo. Allora, CSS è un page. Le best practice da sempre dicono che i CSS dobbiamo tenerli in un bellissimo file esterno al nostro sito e quindi dobbiamo linkare da questi CSS. Queste best practice sono vere, sono ancora attuali, però se vogliamo dare quella sferzata in più al nostro sito in termini di reattività e di performance, che fondamentalmente si traduce, lo scopo qual è? Lo scopo è far sì che il sito all'apertura sia reattivo, ci sia proprio quell'idea di wow, immediatezza. Questo è lo scopo finale di tutto quello che stiamo dicendo. Quindi se vogliamo fare questo dobbiamo non seguire queste best practice e fare alcuni cambi di rotta. Il CSS è un page e uno di questi cambi di rotta, ovvero devo identificare i CSS più importanti, i CSS definiti critici e toglierli da questo file esterno e inserirli dentro la pagina, dentro l'id della pagina. Immagino che tutti voi sappiate che cos'è l'above the fold, giusto? Sì, sì, sì. L'above the fold sai che cos'è? E praticamente la no, ma ci mancherebbe, no, ma ci mancherebbe, ci mancherebbe, siamo qua apposta, siamo in quattro, quindi la bode folle è la parte che l'utente quando carica il sito vede a primo impatto senza dover fare ulteriori scroll o senza dover fare altri click, quindi è la prima cosa che vede e quindi è quella parte su cui dobbiamo porre maggiori attenzioni, che dobbiamo ottimizzare in modo estremo perché è proprio quella che farà l'effetto magico, che farà proprio quel clack, il sito si apre immediatamente e quindi sono proprio i CSS che compongono questa prima parte che io devo andare a includere nel nel lead della della pagina. Poi per spiegare questo concetto ci viene in aiuto il come funziona internet. qui adesso potrei parlare un'ora di come funziona internet, quello è il mio mestiere, però ve lo semplifico. Internet funziona a pacchetti, ci sono vari protocolli, protocolli IP, in particolar modo il protocollo TCP, è quello che in parte fa funzionare l'internet come lo conosciamo. Quando andiamo a visitare un sito web e quindi mettiamo l'url sul browser da quando clicchiamo invia succedono tantissime cose. Semplificando partono una migliaia di pacchetti dal vostro client verso il server di destinazione fondamentalmente perché dobbiamo trasferire dei dati dal server bisogna trasferire dati al client. Questi pacchetti che compiono un sacco di strade diverse sulla rete internet che è fatta a maglie fatta a nodi proprio per essere fallibile. Un nodo di internet può fallire ma il pacchetto fa un altro percorso e quindi comunque se io il sito lo vedo sempre. Questi pacchetti hanno una dimensione e proprio il ragionare su questa dimensione ci permette di andare a fare un'ottimizzazione molto da nerd questa. Chi la fa è proprio perché vuole andare a spaccare il byte in termini di performance però se noi andiamo a ottimizzare questa prima parte del sito che è l'above the fold cercando di stare sotto entro i 14 kilobyte sono pochi però dobbiamo fare l'ottimizzazione quindi dobbiamo lavorare di fino stare sotto i 14 kilobyte ci permette di evitare di fare round trip inutili quindi la richiesta da quando clicchiamo invia arriva il server e quindi tutti i pacchetti devono essere trasferiti dal server al client e se noi stiamo nei 14 kilobyte tutte le informazioni più importanti cioè quelle che l'utente vedrà subito staranno nel primissimo pacchetto e quindi ci sarà sempre di più quell'effetto di immediatezza nel caricare quelle informazioni questa è una cosa un pochino spinta però ci si può arrivare quindi è da tenere in considerazione importante la seconda regola d'oro è il script tag in fondo al body chi di voi indossa un body questa sera? no nessuno l'ho provato un sacco di volte oggi in ufficio e c'è l'alice e body allora fondamentalmente gli script tag che cosa sono? sono degli script che all'interno del codice richiamano cose fanno delle cose il browser per come funziona quando arriva a uno di questi script aspetta che lo script venga caricato prima di andare avanti nel render della pagina ok? quindi se ci sono tanti script ci saranno tanti momenti magari impercettibili però l'effetto finale può essere quello di un caricamento un po' a scatti un po' lento adesso scatti è dire tanto però l'effetto finale potrebbe essere quello questo perché? perché il risultato di quello script potrebbe essere fondamentale per la visualizzazione della pagina e quindi se il browser non se ne fregasse no? il risultato finale potrebbe essere qualitativamente non corretto quindi il browser predilige la qualità del render piuttosto che la velocità quindi la velocità aspetta a noi ottimizzarla quindi come come si fa per risolvere questo questo inghippo si spostano gli script al fondo nel body e quindi questi script verranno richiamati dopo che tutte le cose visibili all'utente e più importanti sono già state renderizzate un altro metodo che però gli esperti mi dicono da usare con le pinze è quello di inserire i tag asincroni per richiamare questi script in modo asincrono si possono utilizzare però alcuni browser immagino di vecchia generazione cioè qualche browser vecchio potrebbe non supportarli e quindi potremmo avere ancora dei problemi quindi mi viene da dire magari oggi vale ancora la pena spostarli giù in fondo magari tra un po' di tempo quando l'aggiornamento tecnologico sarà completato abbiamo ancora dei browser che su windows 95 qualcuno naviga ancora su windows 95 potremo utilizzare questi nuovi tag fino ad allora mi sembra di capire che la strategia comunque di spostare al fondo funziona ho detto giusto? e gli altri CSS quelli che abbiamo lasciato nel nel failone beh quelli li possiamo anche loro chiamare o in modo asincrono oppure 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 no giusto no questi non li usiamo non li chiamiamo in modo asincrono utilizziamo la funzionalità preload che è un nuovo standard CSS e questo ci permette di risolvere il problema anche anche per loro poi abbiamo la quarta regola che in realtà anche i più bravi no è qua è qua la quarta regola che nessuno utilizza che nessuno non si utilizza che nessuno prende seriamente in considerazione è lavorare sui font quindi stavamo parlando prima con Oleg diciamo che già tutte le altre cose che abbiamo visto vanno a a cubare già un buon 80% del miglioramento che possiamo fare andare a lavorare ancora sui font richiede comunque uno studio uno studio dei font se lavoriamo con clienti esterni che non siamo noi stessi dobbiamo concordare con i clienti il non utilizzo di font e quindi incomincia a diventare un po' un po' più ostico come 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 ottimizzazione però diciamo che i font hanno comunque permesso una delle aziende cioè la maniacalità sui font ha permesso una delle aziende più grandi al mondo di diventarlo che è la Apple no quindi comunque li prenderei comunque in considerazione quindi uno studio sui font io ma anche io personalmente sono sincero lo farei poi c'è questo complicatissimo lo leggo perché minificazione degli asset testuali e compressione sembra una roba complicatissima invece è una delle cose un po' più semplici da fare è composta di due punti la prima è appunto la minificazione cioè andare a ottimizzare i file CSS i javascript l'HTML togliendo tutto ciò che non serve quindi cos'è che non serve gli spazi i commenti degli sviluppatori creativi io una volta mi hanno raccontato che in un codice hanno trovato solo commenti in latino no gli sviluppatori sono strani e gente strana però tutti in latino e quelli sicuramente sarebbero stati da minificare assolutamente quindi andiamo a ridurre la dimensione di tutti questi file e la complicatezza e quindi andare a diciamo che la regola semplice è tutto ciò che non aggiunge toglie e quindi se possiamo togliere togliamo poi c'è la compressione che cos'è la compressione? la compressione è andare a comprimere quindi tutti i contenuti statici ad esempio le immagini i css i javascript lato server comprimendoli si può arrivare a un risparmio fino al 70% proprio in termini di dimensione e questo perché ci fa risparmiare velocità? perché dobbiamo trasferire dal server al client meno byte meno megabyte molto spesso e quindi aumenta sicuramente le performance come facciamo a fare questa compressione? ci sono vari modi se usiamo dei cms conosciuti joomla wordpress prestashop magento e via così ci sono sicuramente dei plugin che fanno questo questo mestiere ma la cosa più semplice è farlo fare al provider farlo lato server perché è più efficiente non dovete toccare nulla e ottenete lo anzi secondo me anche il miglior risultato quindi da verificare se il mio provider di hosting mi permette di o avere già nativamente questa funzione di complessione o di attivarla e quindi basta che glielo chiedo e poi c'è la sesta regola la sesta regola che l'ho scritta io stasera in realtà prima di venire cioè nessuna ottimizzazione cioè potremo non fare ottimizzazioni se avessimo un metodo quando realizziamo i siti web già adeguato come diceva Confucio se come lavoro faccio un qualcosa che mi appassiona non lo lavorerò mai un giorno nella mia vita e quindi se realizzo un sito web già ottimizzato non dovrò mai fare un'ottimizzazione e quindi se seguiamo quello che diceva Confucio ci risparmieremo un sacco di tempo di ottimizzazione non esisterebbe neanche questo meetup però quindi esatto domande vai si se puoi dire cosa avete usato come base per speed allora come base per speed potevamo usare tante cose potevamo riscrivere la ruota ma siccome riscrivere la ruota non ha senso a meno che tu non voglia fare una ruota che si attonda fino a un certo punto e poi quadrata al fondo abbiamo utilizzato Sidespeed Sidespeed.io è un progetto open source gratuito sviluppato da due ragazzi fenomenali che lo fanno per passione e quindi abbiamo integrato questo tool open source che ovviamente è alla base delle scansioni e del coach e abbiamo realizzato sopra quindi un cappello che permettesse di essere utilizzato da chiunque anche da chi non sa come fare una scansione pingdom mi sembra che ti permetta di scegliere anche una città tipo Stoccolma Melbourne è possibile anche in questo caso oppure allora tutte le scansioni adesso vengono fatte da Torino quindi dal nostro data center di Torino diciamo che rispetto a pingdom che la location europea più vicina mi sembra in questo momento sia Londra forse Londra o Stoccolma forse quella più vicina diciamo che farlo comunque dall'Italia da una se l'utenza è italiana che visita il sito ci dà già un'indicazione un po' più precisa perché comunque da Stoccolma da Londra piuttosto che comunque ho dei round trip aggiuntivo della latenza aggiuntiva che mi va a sfalsare un po' il dato reale che poi l'utente vede che si collega dall'Italia all'utente per rispondere comunque alla tua domanda in modo più preciso oggi da Torino è possibile che nei prossimi mesi aggiungeremo delle location al momento no però è possibile che lo faremo a